Cosa navigare? Vai a un nuovo posto senza navigatore GPS? Travello? Non cambia il tuo itinerario perché del lavoro in progresso o dell'accidenta sul tuo ruolo? Stai facendo le stesse cose che hai fatto 20 anni fa, necessitando tecnologie in termini di velocità, precisione, tranquillità e sicurezza. Questo è il motivo che abbiamo scelto Navident quando trattiamo la nostra anatomia di patente, performando la scelta, non solo l'implante. Con Navident, io navigavo lo strumento che voglio, thanks to its hardware e software implementazione. Con Navident, io mantenho i prosi di freehand surgery. Accurazione non è un numero apodictico che potrebbe essere non reale. È sotto controllo continuo e può essere aggiustato in tempo reale prima di fare un errore. Con Navident, ho la scelta blanca della mia scelta perché ricorda gli aspetti digitali e completi del mio procedimento. Con Navident, ho un strumento quantitativo di controllo, thanks to Evarunav. Con Navident, ho la possibilità di comprare, il plan e l'execuzione. Nice to meet you! I am Antonio Figo, oral surgeon of the Studio Figo Dentisti Associati, Afragola, Naples, Italy. Navident users since 2019. Grazie! Grazie! Grazie!